Bomba ragazzi! Questo video per parlarvi di un'esperienza fighissima, ovvero il video che ho girato insieme a Gianandrea Mouillat del canale Orion Web Dubbing con Hive Division, quei grandissimi fighi che hanno fatto Metal Gear Solid, filantropi, per Ash vs Evil Dead, la serie che va su Infinity. Questo video è ispirato alla serie, ci ritroviamo, siamo io e Gianandrea, in questa casa di montagna, al freddo, al buio, che cerchiamo qualcosa di sovrannaturale. Ovviamente io essendo un attore sono stato molto professionale sul set. Motore! Nel tuo passato c'è un mistero che nessuno scoprirà, non è vero Mr. X era tuo padre. No! E c'è da dire, c'è da dire ragazzi, perché questa è la verità assoluta, che io non sbaglio mai, non sbaglio mai. Here's some assignments, I'll show you a lot of money. Shall I do some circus to make a shit lot of money? We could even have one, mele, 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 mele. Ma soprattutto, soprattutto devo dire che non infastidisco la produzione, io mi trovo sempre molto d'accordo. Ritorno a stare zitti, c***o! Insomma, questi due ragazzi si ritrovano in questa casa, questo chalet, cottage, cottage, come cazzo si dice, questa casa di montagna, in cerca di qualcosa di sovrannaturale. Ma, ma non vi aggiungo altro, perché altrimenti, niente, vi spoilerò tutto e non è bello. Presto altri video in cui parlerò delle mie esperienze all'interno di webserie, di collaborazioni con altri canali e così via. Mentre a metà ottobre non perdetevi un nuovo esilarante episodio, episodio, puntata, non lo so, video, dell'anima delle videogiochi tua. Con un nuovo ospite doppiatore che su Facebook ho già scritto chi è, ma non ve lo dico. Quindi per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, su quello che dico, su quello che scrivo, su quello che posto, potete seguirmi su Instagram, su Twitter, su Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione in basso al video. Mentre nella I che c'è in alto trovate il video The Cabin of Evil. Bomba ragazzi! No, la camminata la di Ciro è così, guarda, te lo faccio subito. Devi camminare solo con le ginocchia. Allora, dentro. Devi aprire le spalle. Ok, poi c'è un braccio, c'è un braccio che sta così, e uno dritto, così, a pesca. Ah, è vero. Devi camminare solo con le ginocchia. Poi arriva il villaggio, c'è il tizio ciccionissimo. Qual è il tuo nome? E FK risponde con una frase più bella di qualunque gioco animato. I morti non hanno meno. Grazie a tutti.